e magari sta qua MDCCX 1V quindi 1714 si lavora fatto partita partita presa faccio una piccola allora questa allora no ma dico le ruote papà ma togliti da lì cioè le ruote sono tipiche togliti da lì sono le ruote grandi ma non ce l'ho mi fai finire paura a me vediamo qui vediamo chi l'ha fatto prendi dove sto io aia troppo belle le recuperazioni troppo belle troppo belle io ho letto che questa qua è la più grossa però non la più grande sì ma non l'ho più antico se non faccio il video io siamo sul campanile di Santi Giovanni e Paolo Ancelio questa è la campana più antica no scusate questa è la campana più grossa 1714 1714 di Rolandi qui a Roma e questo è il suono della prima poi passiamo alla seconda di sagoma molto più antica secondo me non vorrei spararla grossa ma potrebbe essere del 1400 se non prima purtroppo c'è un po' di usura nel battaglio infatti qui probabilmente sempre è molto ritenziato comunque ecco il suono e infine passiamo a questa qua che è del 1749 la terza la più piccola dove c'è proprio il simbolo qui dei passionisti e questo è il suono quella che attualmente poi tra virgolette non funziona stupende le riprese che si possono fare per esempio che dovrebbe fare la terza la terza c'è proprio la terza hai un luogo finito un numero di era un numero Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.